Ciao ragazze, come avrete letto dal titolo questo è un video su come pressare un pigmento lo faccio perchè può sempre essere utile a casa tutti e quanti abbiamo pigmento io in particolare ogni volta che lo metto e ne perdo la metà mi arrabbio un po' quindi può essere una buona idea sapere come fare a pressarlo magari per farlo durare un po' di più quindi che cosa vi serve? allora dell'alcol puro io l'ho trovato al 96% e va benissimo più è alto il volume e più veloce sarà l'evaporazione quindi sarà più indicato, non è indicato l'alcol classico per le medicazioni insomma il pigmento che avete deciso di pressare una jar nel quale metterete il pigmento e poi miscelerete io in questo caso andrò a pressare tutto il pigmento quindi non ho una jar vuota e non ho una cialdina però se voi decidete di metterlo all'interno di una cialdina vi servirà una jar vuota per poter mischiare il pigmento con l'alcol e poi una cialdina nella quale andrete a mettere poi il vostro pigmento pressato vi serve poi una spatola, io in questo caso userò un dotter una moneta, in questo caso per la mia jar va benissimo una moneta da 20 centesimi generalmente una cialdina ha bisogno di una moneta un po' più grossa, da un euro andrà benissimo e poi un fazzoletto pulito questo è il fazzoletto che io generalmente uso per pulire gli occhiali perché ci andremo a mettere dentro la moneta in questo modo e a pressare il nostro pigmento in quanto comunque la moneta è sporca e avete bisogno di qualcosa che protegga il vostro pigmento che non vada a contatto direttamente con la moneta insomma bene, cominciamo allora vado con il contagocce a prelevare un po' di alcol questo è dell'alcol puro che io ho chiesto in farmacia, me ne hanno venduto 30 ml per il prezzo di 2 euro e lo vado a unire al mio pigmento e poi vado a mischiare che sanno cercate di ottenere una consistenza pastosa la mia in questo caso è un po' liquida quindi dovrò attendere un po' di più che si solidifichi ma io non ho dell'altro pigmento da pressare di conseguenza lo terrò così dato che non devo trasferirlo in nessuna jar in nessuna cialdina vado a picchiettarlo in modo tale che le bolle salgano in questo modo e dopo di che lo lascio evaporare per una ventina di minuti ci vediamo dopo allora sono passati i 15-20 minuti che vi avevo detto come vedete il pigmento si è completamente solidificato non cola nel mio caso è davvero pochissimo potrebbe anche non venire pressato però io per farvelo vedere lo vado a pressare come vedete è solido lo posso toccare mi rimane appena sul dito come se fosse un semplice ombretto ora andate a prendere la moneta la mettete all'interno del panno pulito pulito andate a stringere così e poi andate a pressare semplicemente pressate bene è fatto la moneta rimane pulita e il pigmento pressato resta tutto compatto all'interno della sua jar eccolo qua semplice bene spero che il video vi sia stato utile nel frattempo ho acceso la luce perché ormai fuori è già buio e niente pensavo fosse comunque utile sapere come pressare un pigmento anche perché sicuramente tutte noi ne abbiamo e a tutte quante sarà venuta sempre la stessa idea di pressarlo quindi mi sembrava giusto condividere con voi e basta se anche voi avete dei pigmenti se avete deciso di fare come me di pressarli fatemi sapere come li siete trovate vi mando un bacione grande ciao